Pillole di benessere Ben trovati da parte di Monica Celegato Appuntamento con Pillole di benessere Anche oggi siamo pronti Prima di presentarvi il nostro illustre ospite Vi ricordo il sito che è benessereinradio.it Dove riascoltare le nostre trasmissioni Ma dove trovare anche delle interessantissime notizie Il nostro ospite di oggi è un chirurgo plastico Ed è Ivan Munivrana Buongiorno dottor Munivrana, ben trovato Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori Grazie intanto di aver accettato di essere nostro ospite Il dottor Munivrana perché con lei io volevo affrontare Un discorso che è secondo me molto importante da fare Soprattutto in questa stagione Visto che lei è particolarmente specializzato Proprio nei melanomi Innanzitutto dottor Munivrana Come siamo messi? Nel senso ce ne sono tanti Tanti o la situazione è abbastanza sotto controllo? Ma diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo Quello che a noi chirurghi ci preoccupa recentemente è che stiamo notando di anno in anno Un lieve ma pur sempre costante aumento del numero dei melanomi E quello che ci preoccupa soprattutto è che questi melanomi sorgono sempre nelle persone più giovani Ah quindi insomma questa non è una gran buona notizia indubbiamente Ecco Il bello è che sono relativamente pochi Nell'ambito di tutti i tumori cutanei sono una parte piccola e limitata Ma comunque purtroppo in costante aumento Ecco, visto che dottor Munivrana Noi adesso ovviamente siamo nel bel mezzo della stagione estiva Quindi decisamente sole, mare e quant'altro Quanto può essere pericoloso il sole per la pelle? Innanzitutto bisogna sempre dire che il sole è un gran amico della pelle Ok In quanto l'esposizione al sole ha molteplici effetti benefici sulla cute Sulla produzione della vitamina D e tante altre cose per cui esporsi al sole va bene Quello che non va bene è farla in maniera eccessiva E soprattutto quello che è un fattore di rischio è la scottatura solare cosiddetta Quindi esporsi va bene ma non esagerare Ok e soprattutto immagino che sia importante dottor Munivrana anche proteggersi no? Prima di Assolutamente sì Ecco Perché la carnagione più scura può permettersi una protezione bassa Man mano si diventa più bianchi tra virgolette La protezione dovrebbe salire e con un particolare riguardo ai bambini piccoli Eh beh quello sicuramente giustamente E senta una cosa dottor Munivrana invece per quel che riguarda i nei al sole No? Perché ci sono delle persone che magari ne hanno parecchi no? Cioè le classiche macchioline oppure quelli anche in rilievo In questo caso bisogna avere delle precauzioni in più per esporsi al sole o è la stessa cosa? Assolutamente sì Chi ne ha tanti dovrebbe prendere un po' meno di sole con una protezione più alta Ok E non dimenticarsi mai dei cari colleghi dermatologhi E farseli vedere per ogni minimo dubbio che possa uno avere E comunque è buona norma chi ne ha tanti almeno una volta ogni due anni farsi vedere Ecco quindi anche se non hanno nessun tipo di problema dottor Munivrana sarebbe sempre meglio Anche se non hanno la familiarità per i tumori cutanei Anche se non hanno avuto problemi fino adesso ma chi ne ha tanti è meglio che se li faccia vedere Soprattutto nelle zone che sono difficilmente guardabili come al dorso, i glutei, le cosce Dove uno non si può guardare tutti i giorni è meglio che si faccia vedere da uno specialista Ecco ci sono delle cose che si possono notare per esempio in un neo che sono un sintomo che magari c'è qualche problema dottor Munivrana? Sicuramente i nei piani, quindi quelli che non sono rilevati, tanto scuri e che danno dei problemi Tipo se cominciano a dare del prurito oppure cominciano a inalzarsi improvvisamente O cambiano colore e che non hanno i bordi regolari sono dei campanellini d'allarme per cui una visita si rende obbligatoria ai tempi brevi Ah ecco quindi insomma come diceva lei giustamente fare questa prevenzione di una visita costante Ovviamente io mi stavo controllando le braccia finché lei parlava perché credo che inconsciamente l'abbiano fatto proprio tutti quelli che ci stavano ascoltando Quindi sicuramente il consiglio che possiamo dare dottor Munivrana è quindi di farli controllare se non hanno, anche se non hanno, se ci sembra che non abbiano nessun problema Ogni due anni e se comunque notiamo che cambiano soprattutto quelli piani, quindi le macchioline, quelle che noi chiamiamo affettuosamente macchioline Lì in quel caso invece se notiamo che cambiano colore o se cambiano forma bisogna proprio obbligatoriamente farli vedere Assolutamente sì Ecco perché anche un neo, giustamente un comunissimo neo può diventare un melanoma giusto dottore? Ok perfetto e la cosa che adesso magari le avranno anche chiesto che a lei farà anche sorridere però che sono quei luoghi comuni che secondo me è sempre bene sfatare se è vero O se non è vero, è vero che i nei, comunque le macchioline appartengono tutti alla famiglia dei melanomi però sono benigni finché non creano problemi? Assolutamente no Ok perfetto Perché in un neo comune, un neo normale, quello che è di colorino bruno chiaro, giallastro scuro, insomma quelli sono degli accumuli del pigmento, della cosiddetta melanina nella pelle E' che durante l'arco della nostra vita compaiono ma possono anche spontaneamente regredire, quindi sono dei piccoli amassi del pigmento che non hanno niente a che vedere con un tumore e soprattutto con un tumore maligno come il melanoma Certo è che alcuni dopo le esposizioni solari prolungate ma anche dovuto ad altre cause anche in parte sconosciute possono diventare una cosa maligna Ma bisogna sempre anche dire che l'80% dei melanomi nasce ex nuovo, cioè nascono subito maligni, non hanno un nevo che li precedeva Appunto per quello avere una macchiolina nuova scura che cresce rapidamente, che cambia colore rapidamente, che magari sanguina, che magari dà prurita è una cosa da assolutamente far vedere Da non sottovalutare, perfetto, dottor Munivrana io la ringrazio veramente per la sua disponibilità e grazie per i preziosi consigli che ha dato ai nostri ascoltatori Le auguro una buona giornata Grazie altrettanto Grazie Benessere in Radio.it È il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere Recensioni, notizie, anticipazioni Tutte le puntate da ascoltare o rileggere Benessere in Radio.it Salute, bellezza e benessere In un click Benessere in Radio.it Benessere in Radio.it Benessere in Radio.it Benessere in Radio.it